Sono quelle parite strane dove tendi a calare di concentrazione. Invece abbiamo lavorato appunto su quello e siamo stati bravi sin dall'inizio a far capire che non c'è la storia. Che cosa avete detto a Nicola Sviola? Ma niente, è stato bravissimo, ha fatto tre gol, meglio così. Non dobbiamo stare lì a guardare la classifica perché i primi passi falsi poi ti vengono subito a prendere. Però in quello è bravo anche il mister che ci tiene sempre con l'attenzione alta e quindi lavora tanto su questo. E poi comunque siamo tanti ragazzi di esperienza e sappiamo come funziona. Poi la Serie B è un campionato particolare abbastanza lungo e sappiamo che non dobbiamo volare niente. È un ruolo un po' nuovo per me che comunque non ho mai fatto. Cioè ho fatto poche volte e comunque non è semplice perché comunque non c'ho più vent'anni e fare tanti metri è un po' pesante. Però no, mi sto trovando bene, giochiamo bene, siamo una gran squadra quindi ci stiamo anche divertendo. Sto bene, mi sto allenando regolarmente e quindi anche la condizione è ovviamente migliore e migliorata. In comune no, è molto diverso ecco, ho fatto un po' di fatica all'inizio però adesso piano piano sto molto meglio.